Quindi la parola a Laura Arpino, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Allora, molto velocemente, originariamente il mio intervento doveva essere, diciamo così, di spiegazione di come la Corte utilizza nel giudizio i fatti e in particolar modo i fatti scientifici. Tutto il parterre mi spinge a tutta una serie di considerazioni, allora, che vanno forse anche oltre, ma che prendono spunto chiaramente dalle sentenze. La Corte da sempre ha utilizzato i fatti scientifici all'interno del suo giudizio, lo ha fatto per interpretare le norme che venivano sottoposte alla sua valutazione, quindi si è trattato di verificare i presupposti su cui si basava il legislatore, la situazione esistente nel momento in cui veniva emessa la norma, la plasse applicativa. Lo ha fatto in altri casi per riempire di significato le norme, quindi introducendo degli elementi fattuali, scientifici, che potevano consentire di comprendere il significato di alcune norme magari di carattere generale che dovevano essere destinate a durare nel tempo. Lo ha fatto, come si diceva tanto tempo fa, nella cosiddetta retorica della giustificazione, cioè per dare il senso alla bontà della decisione presa. La retorica della giustificazione poi a un certo punto è diventato qualcos'altro, ne ha parlato meglio di me sicuramente il consigliere greco, quando parlava del fatto che a un certo punto la retorica della giustificazione è divenuta bilanciamento e quindi si è trasformato. Turco, non greco, era vicino. Diciamo che andavo meglio a storia che a geografia. Ho capito subito l'Apsus e l'ho corretto immediatamente. Era una nazione. Già è tanto che non ho confuso il consigliere Cassazione e il consigliere di corte d'appello, cioè già quantomeno ho la distinzione. Il consigliere dell'ordine è già tanto. È già molto, sono in minoranza in questo momento. Allora dicevamo, la retorica della decisione è poi diventata giudizio di bilanciamento, quindi giudizio di ragionevolezza, quindi una valutazione su quella che era la ponderazione che il legislatore poteva aver compiuto nello scegliere il mezzo normativo rispetto agli scopi da realizzare, tenendo conto della situazione esistente e delle limitazioni esistenti. Quando la ragionevolezza è nelle norme che comunque hanno una base scientifica diventa ragionevolezza scientifica, ecco quindi che sorgono tutta una serie di problematiche. Sono problematiche che avete ben affrontato. La prima e che mi ha colpito nel corso della discussione è quella relativa all'istruttoria. La sentenza in questo caso che noi abbiamo considerato pecca di un'adeguata istruttoria. Fa riferimento a quelli che sono le relazioni che sono state offerte dall'AIFA e da quant'altro, ma non svolge a mio avviso un'autonoma istruttoria, che pur rientra nei poteri che vengono riconosciuti alla Corte Costituzionale. Sia quelli diretti che potevano essere svolti dal giudice relatore e che ovviamente potevano essere realizzati con il cancelliere e quindi quelli classici di acquisizione di prove, di acquisizione di documenti, ma secondo me anche di assunzione di prove testimoniali. in questo caso non sarebbe stato male, ma avrebbe potuto anche svolgere quella che viene chiamata se vogliamo istruttoria indiretta, cioè avrebbe potuto fare delle ricerche di cui dare atto, invece che basarsi semplicemente su quelle che erano le indicazioni che vengono fornite delle varie relazioni, perché questo ci apre il problema anche di scegliere se vogliamo in maniera acritica la scienza a cui fare riferimento. E questo secondo me è un limite, un forte limite di questa sentenza, che però è un limite di cui la Corte in altre circostanze ha risentito, quando ha dato per fatto notorio certi elementi come poteva essere la validità di certe decisioni sulla procreazione eterologa o omologa, oppure le problematiche in tema per esempio di sigarette elettroniche, quando ha espresso questioni sull'illegittimità costituzionale basandosi sul principio che il diritto alla salute giustificava nel caso dei prodotti da nicotina derivanti da fumo una tassazione in un certo modo, mentre non la si poteva applicare per gli altri prodotti, perché non c'era lo stesso pericolo per il diritto alla salute ma non ha fatto un istruttore a sé. Quindi credo che un primo problema sicuramente che ho avvertito rispetto a questa sentenza ma che si ripercuote su una maggiore attenzione che in sede costituzionale deve essere fatta è proprio di dare una maggiore importanza e uno stimolo ad un'autonoma istruttoria. Questo si lega all'ulteriore problema, cioè quello del bilanciamento. Nel momento in cui, e in questo concordo con il consigliere che per me ormai è diventato greco e non più turco, il bilanciamento diventa un bilanciamento tra valori costituzionali ma a questo punto diventa quasi la scelta di certi obiettivi da raggiungere. Soprattutto, e in questo caso mi ricollego a quanto detto anche dal procuratore, nel momento in cui non è più bilanciamento in cui un interesse ha una preferenza ma l'altro non subisce una soppressione ma diventa una vera e propria soppressione, bisognerebbe porsi, e questo è un interrogativo che vi pongo, il discorso se effettivamente dare tutto questo valore solo al dato scientifico. Cioè, dobbiamo scegliere una strada in cui il bilanciamento deve essere un bilanciamento in cui l'elemento indispensabile, l'unico da tener conto deve essere l'elemento scienza? Se scegliamo quella strada, allora è un obbligo l'istruttoria che la Corte Costituzionale deve fare perché l'offerta che gli viene data dal legislatore è chiaramente un'offerta indirizzata come scelta perché è la scienza di Stato, se vogliamo. Se invece scegliamo una strada in cui il bilanciamento considera chiaramente l'elemento scienza ma come diceva Morrone, la libertà dell'individuo e i valori dell'individuo vanno oltre la scienza e quindi bisogna considerare anche la politica, allora nel giudizio che la Corte deve fare, a mio avviso, deve anche valutare l'eventuale discrezione che il legislatore ha operato. Ovviamente vi lascio rispetto a questo tipo di interrogativo. L'altro interrogativo che mi sono posta e che nasce proprio da quanto riferiva il procuratore in ordine alla tecnocrazia è ma siamo arrivati in un punto in cui la legge oltre ad avere una legittimazione dalla democrazia perché è espressione del popolo, una legittimazione che vi deriva dal rispetto dei valori costituzionali deve avere una legittimazione scientifica? Io penso di no. Penso che non può essere così. Quindi quando si emana una norma necessariamente occorre far riferimento alla scienza quando si tratta di una norma che ha come suo dei presupposti di tipo scientifico, ma la scienza può indicare i rischi, ma è poi la scelta di correrli e la valutazione dei rischi che deve essere lasciata al legislatore e alla politica. E la Corte Costituzionale nel momento in cui giudica deve tener conto di questo, non solo del fatto che si tratta di una norma basata su degli elementi scientifici. Il terzo interrogativo è invece quello su che tipo di Corte Costituzionale vogliamo. Cioè, e questo è forse un discorso ampissimo, nel momento in cui per un certo periodo storico la Corte Costituzionale attraverso l'utilizzo della adeguatezza scientifica, della ragionevolezza scientifica ha consentito anche un'evoluzione di alcuni diritti individuali e parlo proprio delle norme dell'incostituzionalità dichiarata per esempio in materia di procreazione assistita, garantendo uno sviluppo delle libertà del singolo in quel caso era in contrapposizione ai diversi diritti alla salute, il diritto alla salute psichica dei genitori che non erano fertili e che avrebbero potuto attraverso la fecondazione eterologa giungere a, giuro che sto per chiudere, giungere a soddisfare la loro salute e il diritto della salute dell'eventuale figlio e il diritto alla salute naturalmente dei donatori dei gameti e dei riceventi gameti, ecco in un momento in cui la Corte è stata attraverso l'utilizzo della ragionevolezza scientifica strumento di evoluzione per le libertà, ora si è passato in un momento in cui per assurdo è diventata strumento di involuzione delle libertà o di riduzione delle libertà e soprattutto strumento di riduzione di principi fondamentali come la dignità personale. Allora c'è da chiedersi che Corte Costituzionale vogliamo? Una Corte che si limiti ad un giudizio che valuta solo la rispondenza e la tutela a quelli che sono i principi costituzionali e che quindi sia solo un limite esterno? Oppure una Corte che invece sia volta ad esercitare un controllo sull'intero sistema? E con questo mi chiudo. Bene. Bene.